buongiorno e grazie di questo invito così prestigioso e grazie a tutte le autorità che sono qui presenti ma io da nonna vedo un altro obiettivo della mia testimonianza che sono i ragazzi io ho 81 anni sono nata a milano nel 1930 da famiglia italiana patriota da famiglia laica non era una famiglia ebraica religiosa e veramente non andando a una scuola pubblica dove io andavo dove avevo fatto la prima e la seconda elementare non sapevo di essere una diversa tra virgolette ma nell'estate del 1938 quando avevo otto anni e dovevo fare la terza mi è stato detto che ero stata espulsa dalla scuola perché ero ebrea oggi io ho tre nipoti sono una donna molto fortunata una bellissima famiglia e ho tre nipoti il più piccolo a otto anni e va in terza elementare esattamente nella scuola dalla quale io sono stata espulsa quando vedo il mio adorato nipotino filippo che viene da me a fare i compiti e penso che se gli dovessi dire o la sua mamma e suo papà gli dovessero dire non puoi più andare a scuola perché sei stato espulso quella faccina così pura così gioiosa così ottimista verso la vita avrebbe avuto sicuramente un cambio di espressione così come sicuramente quella povera bambina che ero io l'avrà avuto a quel momento io ho cominciato quella volta a chiedere perché 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 ma veramente anche i miei con quelle facce commosse che avevano con quelle facce umiliate non sapevano dare una risposta accettabile a una bambina di otto anni e quando poi pian piano la persecuzione è andata avanti ho cominciato a vedere che non ci salutavano più per strada quei silenzi tremendi al telefono quella preoccupazione crescente sul viso dei miei perché il consiglio dei ministri era diventato una specie di di fucina di leggi contro questi cittadini italiani di religione ebraica che avevano dato alla patria tante volte dei loro dei loro concittadini dei loro connazionali erano morti nella prima guerra mondiale mio papà e mio zio erano stati ufficiali nella prima guerra mondiale mio zio era anche molto fascista e imparò giorno dopo giorno che cosa questo avesse voluto dire erano anni anni particolari in cui le famiglie stavano più strette nei loro affetti in cui c'è un detto molto spiritoso di un vecchio signore ebreo che è morto a cento anni e che ha detto a quel tempo i pessimisti sono andati a new york e gli ottimisti sono andati ad auschwitz perché proprio così è stato gli italiani erano talmente gli ebrei italiani erano talmente convinti che in italia non sarebbe potuto succedere quello che stava succedendo in germania che per la maggior parte rimasero lì così fu la mia famiglia e in un crescendo di preoccupazione e poi a un certo punto di disperazione ci trovamo dopo l'8 settembre quando il 43 quando io avevo 13 anni a dover fuggire dalle nostre case come si fa a spiegare ai ragazzi di oggi cosa vuol dire fuggire dalla propria casa lasciando tutto portando una valigia in cui uno deve scegliere dalla propria camera dalla propria vita precedente cosa portare la mia famiglia era fatta di quattro persone mio papà rimasto vedovo a 31 anni tornato a casa con i suoi genitori miei nonni e io eravamo quattro di una piccola famiglia borghese molto semplice molto unita e mio nonno era colpito già da anni dal morbo di parkinson e tremava irrefrenabilmente in tutto il corpo anche la testa mio papà a un certo punto cercando di mettere in salvo me ma non volendo lasciare i suoi genitori in quello stato riuscì ad avere un permesso dalla questura di como perché intanto eravamo sfollati in un paese là vicino che i nonni potevano restare viste le loro condizioni a quel punto io e lui fuggimmo come due poveri cittadini semplici in una fuga grottesca dietro le montagne che portano dalla parte di varese verso la svizzera e dopo esser passati noi così poco adatti così così poco sportivi così non certo dei clandestini abili arrivamo dall'altra parte la terra della libertà la felicità la gioia beh no troviamo un ufficiale svizzero tedesco che ci respinse e alla sera eravamo eravamo stati sul confine arrestati beh io entrai a 13 anni nel carcere femminile di varese sola molti molti pianti molta disperazione poi nel carcere di como l'ora d'aria c'era proibita poi fumo portati nel carcere di san vittorio a milano dove le famiglie furono riunite e fui con mio papà gli ultimi gli ultimi giorni insieme l'ultima casina fu la cella 202 non c'era più niente da dire aspettavamo di essere deportati già un trasporto era partito partimo anche noi il 30 gennaio del 44 e caricati a calci e pugni sui vagoni bestiame dai sotterranei della stazione centrale io sono anni forse più di dieci che mi perché quel binario 21 pur restando così com'è diventi un memoriale della Shoah perché è l'unico in Europa che è rimasto tale quale per la vergogna di chi ha fatto tutto questo e come come ci si trova 50 a 60 persone che neanche si conoscono prestati dentro un vagone bestiame hai lasciato la tua casa hai lasciato quella camera quella tua camera che il tuo piccolo regno di bambina di ragazzina di 13 anni in cui quasi ancora ci può essere un vecchio pupazzo e ti trovi dentro il vagone il treno comincia a muoversi tutti piangono e poi pregano e poi stanno in silenzio e poi pian piano in una settimana cambia il paesaggio e si attraversa l'Austria poi si arriva alla foresta nera e poi si arriva ad Auschwitz e cosa si dice alla persona che ami cosa vuoi dire non c'è più niente da dire io ero la principessa del mio papà io l'ho fatta da figlia la persecuzione l'arresto e la deportazione quando sono diventata mamma e ho visto i miei figli arrivare ad avere 13 anni 14 anni come avevo io e poi adesso vedo i miei nipoti ma come ha fatto a mio papà non morire subito dalla disperazione perché io l'ho sopportato da figlia ma non l'avrei potuto mai sopportare da mamma e poi arrivamo lì e con la stessa violenza scaricati divisi per sempre da quella mano santa che però anche se non ha la tomba è così è così presente importante nella mia vita il mio meraviglioso padre dagli occhi tristi cominciai da sola la vita di prigioniera schiava e quando proprio sono diventata nonna ho cominciato uno sdoppiamento dentro di me che mi ha permesso di diventare testimone dopo 45 anni di silenzio perché io per 45 anni non ho mai parlato di questo argomento chi mi conosce da tanti anni sa che io non ho mai parlato di questo argomento finché non sono diventata nonna e da nonna qualche cosa si è pacificato dentro di me e ho cominciato a vedermi io la nipote di me stessa questa povera ragazzina i ragazzi delle scuole con i quali ho un colloquio meraviglioso da anni e anni tutti 200 250 mila che ho incontrato in questi anni di persona loro mi dicono signora ma come ha fatto e io testimone di morte mi trasformo come ero allora in testimone di vita ed è questo che io cerco di trasmettere ai ragazzi che bisogna essere forti non delegare perché io non ho avuto una spalla su cui piangere non l'avevano neanche le altre eravamo soli nell'indifferenza quella che un minuto fa è stata nominata indifferenza quando l'architetto che sta facendo appunto il restyling del del binario 21 a milano mi ha detto l'igliana c'è un muro un muro grande quando si entra quel muro che ti che ti colpisce in questo buio del sotterraneo scriviamoci una parola cosa vuoi scrivere libertà vita quello che vuoi auschwitz no io ho detto scriviamo anzi scaviamo nella pietra la parola indifferenza perché l'indifferenza è colpevolissima è molto più colpevole della violenza dalla violenza si cerca di in qualche modo di proteggerci ma dell'indifferenza è impossibile come una nebbia che ti avvolge che fa capire non ti fa capire più dove sei cosa fai chi sei l'indifferenza è stata quella che ha permesso auschwitz e che permette ogni giorno tutte le cose brutte che continuano ad accadere nel mondo nel silenzio generale perché se una cosa non ti tocca personalmente beh ci penserà qualcun altro questo succede e nell'indifferenza generale degli stati della croce rossa forse del cielo io non sono credente tutto questo ha potuto accadere senza che solo pochissimi quei giusti che sono nel giardino dei giusti man mano che viene fatto nelle città perché sono così onorati giardini fiori piante perché erano pochissimi il totalitarismo dove è stato ha avuto un plauso generale c'era qualcuno che pensava per noi affidiamoci al grande conduttore sia che sia in italia sia che sia in germania sia che sia in spagna sia che sia in russia affidiamoci il popolo va dietro a chi decide e sono pochi eroi che rischiano la vita dicendo no non è vero l'uomo è libero l'uomo c'ha dentro di sé dentro la sua coscienza questa forza enorme io allora ero una povera ragazza rasata denudata tatuata vestita a righe diventa nel giro di pochi giorni magra una lupa affamata ed egoista sola solitudine forza voglio vivere voglio vivere voglio vivere voglio una gamba davanti all'altra diventai operaia schiava alla fabbrica di munizioni union camminavamo nel tragitto tra birkenau ed auschwitz incontravamo dei ragazzi tutti i giorni noi eravamo sei o settecento donne di tutte le nazionalità vestite a righe con gli zoccoli nei piedi il fazzoletto sulla testa rapata orribile una davanti all'altra eravamo lo specchio di noi stesse grigie tutto era grigio la neve il cielo le divise dei nostri assassini le nostre facce incontravamo dei ragazzi belli biondi con delle belle biciclette nostri coetanei perché eravamo tutte giovani ci guardavano avevano la svastica della hitler jugend sul braccio ci sputavano addosso ci dicevano parolacce che quando le ho capite beh veramente le ho imparate anch'io e dentro la mia testa le rimandavo loro li odiavo li odiavo con tutte le mie forze sognavo vendetta sognavo di vendicarmi e fu fantastico quando io diventata nonna scopri improvvisamente che non li odiavo più quei poveri ragazzi che avevo pena per loro pena per loro figli di nazisti nazisti anche loro avevo pena e non avevo più nessun desiderio di vendetta non avevo più desiderio di odiare nessuno ero pronta ero pronta per parlare ai ragazzi di forza di volontà di vita di scelte di non delegare allora no riprendevo la strada tutto il giorno lavoravo in fabbrica non c'erano i sindacati non c'era orario tornavamo la sera in campo la fiamma del crematorio o il fumo ci dicevano che cosa era stato e quell'odore quell'odore dolciastro della carne bruciata era l'odore della notte dormivate signora mi chiedono i ragazzi nella notte del lager si dormivamo la stanchezza era enorme dormivamo vestite se no le nostre compagni ci avrebbero rubato i vestiti con gli zoccoli sotto la testa io mi ricordo che tenevo le dita nelle orecchie perché io io non volevo essere lì io mi sdoppiavo io non volevo essere lì io non volevo sentire le grida di quelli che arrivavano e quando arrivò il grande trasporto dall'ungheria che in un attimo furono tutti gasati e bruciati quasi tutti e chiamavano di notte le mamme chiamavano i bambini le mogli perdevano i mariti e andavano al gas e io non li volevo sentire la notte del laghere poi tre volte passai la selezione nell'anno che passai a Birkenau ed era non era la selezione dell'arrivo in cui non sapevamo che quelli scelti per il lavoro non avrebbero mai più visti mai più visto quelle che non erano stati scelti no era una selezione annunciata in cui le capoci chiudevano nelle baracche a gruppi di 50 o 60 nude sfilavamo era persecuzione anche quella davanti a quel gruppetto di assassini due ufficiali e quel medico famoso Mengele di cui io seppi dopo il nome perché io con i miei 13 14 anni che compì ad Auschwitz non sapevo i nomi non mi interessavano neanche come ci si pone come si pone una donna nuda magra scheletrita davanti a un piccolo tribunale di uomini vestiti in divisa che devono decidere ti fanno voltare davanti dietro se sei ancora atta al lavoro quello no beh era fantastico c'era quella disperata che si buttava per terra supplicando no io non ero così perché sapevo che gli piaceva troppo l'ebreuccio del ghetto che chiede pietà quello no non ero neanche spavalda e coraggiosa da guardarle in faccia perché era proibito io stavo zitta dentro di me il cuore batteva come un pazzo voglio vivere voglio vivere voglio vivere voglio vivere voglio vivere e arrivavo lì e quando mi facevano quel gesto che potevo andare io ero felice felice era la vita era la vita era come una nascita una nascita in cui uno è conscio di nascere in quel momento e quasi ero grata all'assassino che mi aveva lasciato ancora in vita facevo un passo mi rivestivo coi miei stracci e la mia vita ricominciava e non importa se quella dietro di me era stata mandata al gas io ero una lupa famata egoista non volevo amare più nessuno dopo che mi avevano strappato da quella mano santa di mio papà io non volevo amare più nessuno non volevo attaccarmi a nessuno per poi trovare di nuovo un vuoto ero una monade ero un essere staccato da tutti gli altri era solitudine io guardavo il cielo non volevo guardarmi intorno non volevo sapere dei mucchi di cadaveri scheletriti fuori dal crematorio pronti per essere bruciati io non volevo sapere di compagni in punizione non volevo guardare gli assassini e non mi posso mai dimenticare come erano le donne ss io spesso vado in contesti tutti femminili a dare la mia testimonianza perché io come donna mi sono sentita particolarmente offesa dalla persecuzione dalla prigionia e racconto anche di quanto erano tremende le donne ss implacabili contro di noi disgraziate che non avevamo più niente loro erano delle donne giovani bionde sane in salute con le loro divise elegantissime con gli stivali lucidi con la punta a cui avevano aggiunto una mezzaluna di ferro in modo che il calcio fosse molto più cattivo quando lo davano e le bastonate con il nervo di bue queste donne si trasformavano io le guardavo nella mia innocenza nella mia grande come posso dire essere una una ragazzina cerba che non aveva capito molte cose della vita come queste donne tremende nei nostri confronti delle iene si trasformavano quando uno dei loro dei loro pari grado nazisti si avvicinava per invitarle magari alla sera a una cena qualche cosa e queste improvvisamente si trasformavano in donne che sbattevano le ciglia con tutte quelle quelle mosse quelle civetterie che usavano allora io ero sempre più sbalordita della trasformazione di una che un minuto prima ti colpisce magari nella pancia o magari in faccia e un minuto dopo è una donna deliziosa femminile che vuole piacere erano dei erano delle cose che mi mandavano mi mandavano in una confusione che si aggiungeva a quella debolezza enorme del mio corpo ed ero prigioniera ormai da quasi un anno quando verso il 20 di gennaio del 45 cominciamo improvvisamente noi che non sapevamo niente dell'andamento della guerra non avevamo mai avuto mai visto un giornale mai sentita la radio nessuno di noi aveva neanche un orologio già da tempo quindi non sapevamo neanche che ora fosse che giorno fosse improvvisamente cominciamo a vedere un grande nervosismo da parte dei nostri assassini e aerei russi che passavano sopra la fabbrica ma che così come non hanno fatto negli americani e negli inglesi non bombardarono mai nei campi né tantomeno le fabbriche perché dopo lo capì le volevano trovare pronte finita la guerra e noi non capivamo cosa stesse succedendo quando di colpo sentimmo rumori enormi scoppi facevano saltare il campo di Birkena dove c'erano le strutture di morte con la dinamite e noi di colpo così come eravamo in fabbrica fumo obbligate a cominciare quella marcia chiamata della morte io quando ho visto che ormai 10 anni fa 11 anni fa è stata è stata decretata questo 27 gennaio come giorno della memoria ho pensato che fosse e lo penso tuttora un discreto falso storico perché c'è scritto che è il giorno in cui i russi hanno liberato il campo di Auschwitz spiega primo levi nella prima pagina di quel libro stupendo che è la tregua come entrarono i russi in un'alba di gennaio del 27 gennaio quattro soldati russi a cavallo bellissimo nelle brume del mattino entrano nel campo di Auschwitz e trovano mucchi di cadaveri e un paio duemila mille non mi ricordo il numero di prigionieri talmente ammalati che non avevano potuto nemmeno obbedire così come eravamo abituati a obbedire immediatamente al comando di venire via e cominciare la marcia della morte quindi loro non hanno liberato il campo di Auschwitz sono entrati nel campo di Auschwitz perché i tedeschi erano già fuggiti e c'è una frase che è stupenda io invito a leggere questo libro di primo Levi la tregua che è molto importante forse di più di se questo è un uomo ma non è possibile se questo è un uomo è sempre straordinario che dice che negli occhi di questi quattro semplici giovani soldati a cavallo vedendo quello che gli si prepara davanti c'è tutto lo stupore per il male altrui è stupendo tutto lo stupore per il male altrui ecco io non non avrei mai saputo scrivere una cosa di questo genere purtroppo non so scrivere ma l'ho sentito sempre anch'io non lo sapevo tradurre in parole ma anch'io ho sentito nella mia pochezza nella mia semplicità di allora questo enorme stupore per il male altrui perché vedete uno come me che ancora dopo tanti anni è così sempre pronto in continuazione a ricordare questa pagina così tragica della sua vita io devo dire la verità io soprattutto negli anni del mio lungo silenzio io ho letto tutto quello che si poteva leggere di storico di filosofico anche di teologico che mi hanno sempre molto interessato e poi io sono stata e molto amica del cardinale martini col quale che fra l'altro ha fatto la prefazione di quella sopravvissuta da auschwitz che ha scritto una giornalista su di me e quindi ho avuto modo anche così con personalità particolare di parlare di questo argomento ma devo dire la verità che nessuno non c'è storico non c'è filosofo non c'è teologo non c'è neanche semplice professore che si che si interessi a questo argomento per fortuna tra parentesi che può cogliere così come un testimone quell'odore quei colori quegli sguardi in quegli atteggiamenti quei cani così come uno che l'ha vissuto e questo purtroppo ora che stiamo morendo uno dopo l'altro è un'eredità che è impossibile da lasciare perché appunto se una cosa una è come se ti descrivono un piatto squisito ho mangiato un dolce meraviglioso e questo ti scende per la gola questo sapore meraviglioso che poi uno che ha sofferto tanto la fame continua ad apprezzare per tutta la sua vita come fa l'altro a sapere cosa tu hai provato mangiando quel dolce o anche mandando giù il tuo sangue perché ti hanno dato un bello bastonata nei denti beh cominciai la marcia della morte e camminai da da auschwitz fino a ravensbruck e quando vidi per mesi naturalmente delle delle settimane poi fermi in un sottocampo poi di nuovo ricominciava la marcia beh io non so come ho fatto quando ho visto la carta geografica dopo un anno di prigionia a fare quella marcia non lo so era uno stato di diabulia era una gamba davanti all'altra ma di questo parlo sempre ai ragazzi siamo fortissimi non dite mai non ce la faccio più perché non è vero siamo fortissimi uomini e donne allora quella marcia della morte si trasforma in marcia per la vita senza appoggiarsi a nessuno perché nessuno aveva la forza di sopportare un altro e senza che nessuno si appoggiasse a te ma la tua vita importantissima una gamba davanti all'altra voglio vivere voglio vivere la testa che comandava le gambe così deboli di camminare e c'era quella neve rossa ai bordi della strada perché chi cadeva veniva finito con una fucillata alla testa dalle guardie della scorta io non le volevo guardare io sentivo col rumore come quando si rompe una noce di cocco ma io non la volevo guardare io camminavo voglio vivere voglio vivere voglio vivere poi ci furono altri lagher altri orrori altre disperazioni altri pianti poi arrivamo in un ultimo piccolo campo era primavera nel nord della germania si chiamava malcio il posto ed era un piccolo campo dove non si lavorava e dove finito il campo c'erano i prati non come a birkenau e a ravensbruck che finito il campo ce n'era un altro no lì al di là del filo spinato c'erano i prati e siccome era il mese di aprile e la primavera veniva anche lì noi da dentro vedevamo quell'erba vedevamo quelle foglie sognavamo di raccogliere quell'erba che il cancello fosse aperto la libertà parola vuota quante volte si dice alla libertà io sento questi discorsi soprattutto quelli più retorici che io odio la libertà la libertà è che noi tutti che siamo qui dopo usciamo da qui e andiamo a mangiare a far l'amore a giocare a comprare un giornale a incontrare un'amica è la piccola libertà grande enorme di essere persone libere ma se qui adesso arriva uno chiunque e sbarra tutte le porte e avendo dei bei mitra mi chiedono come mai non vi siete ribellati voi eravate tanti le guardie erano poche sì è come quando entra un dirottatore in un aereo che se non c'è un aiuto da fuori non è mai esistito che equipaggio e passeggeri si potessero liberare del dirottatore l'abbiamo visto con le torri gemelle e l'abbiamo visto in mille altri casi se entra uno qui con un mitra e un altro suo compare chiude tutte le porte siamo qui finché quello non decide per noi per quello non abbiamo potuto ribellarci e la libertà è che queste porte si aprono e quel cancello era chiuso e fuori c'era l'erba ma improvvisamente cominciamo a vedere i nostri assassini nervosissimi caricare tutto quello che avevano scrivanie registri portavano fuori e intanto passavano fuori dal campo dei ragazzi dei prigionieri francesi che ci dicevano non morite proprio adesso la guerra sta per finire arrivano gli americani di qui i russi di là cosa no quello era quello era impossibile da sopportare noi che non avevamo mai saputo niente che eravamo scheletri poche si alzavano da quei giacigli ci dicono che i tedeschi stanno perdendo la guerra no 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 era 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 faceva male al cuore non si poteva sopportare invece fu così aprirono quel cancello e ancora prigioniere tutte si trascinarono fuori io mi ricordo una sono a genova non posso non parlare di due sorelle laura e luciana sacerdote con le quali ho condiviso la prigionia dal primo giorno all'ultimo laura aveva 24 anni aveva 10 anni più di me e si era malata di cuore stava a letto stava a letto il letto era un giaciglio schifoso con tutti gli insetti ed era uno scheletro gonfio aveva le caviglie gonfie i polsi gonfi la faccia gonfia luciana meno vecchia di lei era aveva 19 20 anni allora la supplicava alzati possiamo andare via da qui alzati laura non riuscì alzarsi e morì pochi giorni dopo la luciana fu obbligata insieme a me a uscire da quel campo e lasciò la sorella li fu obbligata a lasciarla ma io me li ricordo gli occhi castani di laura quando andammo via e la lasciamo cominciamo avremmo dovuto cominciare un'altra marcia ma su quella strada successe l'incredibile vedemmo i civili che non ci avevano mai dato né un sorso d'acqua né un pezzo di pane uscire dalle loro case mischiarsi a noi fuggivano lì arrivavano i russi loro volevano andare dagli americani e noi mescolate a noi li guardavamo e guardavamo i soldati guardavamo gli ufficiali che buttavano via la divisa che buttavano via le armi beh io quando vedi quello testimone della storia che cambiava io ragazza nulla ragazza disgraziata di 14 anni beh quando vicino a me si spogliò si mise in mutande per poi rivestirsi in borghese il comandante spietato di quell'ultimo campo bell'uomo elegantissimo occhi di ghiaccio che si spogliò e butto via la pistola ai miei piedi beh io mi ero nutrita di odio di vendetta vedi quella pistola ai miei piedi e in quel clima di violenza nel quale avevo vissuto in quell'anno e mezzo pensai adesso mi chino facevo molta fatica a chinarmi ero molto sono molto più più svelta adesso che ho 81 anni di come ero io 14 defedata in quel modo beh pensai mi chino piglio la pistola e lo uccido perché mi sembrava veramente il giusto finale il giusto epilogo per tutta la violenza che avevo visto intorno a me fu un attimo fu un attimo concludo sempre così la mia testimonianza anche adesso fu un attimo importantissimo nella mia vita di una tentazione di una tentazione così forte di un attimo in un attimo io capì che per nessuna cosa al mondo io avrei potuto uccidere qualcuno che io non ero come il mio assassino ma che la lezione di amore e di vita che avevo ricevuto nella mia famiglia mi rendeva un'altra persona non ho raccolto quella pistola per fortuna e sono diventata da allora quella donna libera e quella donna di pace che sono anche adesso